Cosa è questo marchigegno che mi porto spesso appresso durante i lavori con Shoot for Change o progetti personali? È una domanda che mi rivolgono molto spesso perché all'apparenza sembra in effetti uscito da un episodio di Transformer o da qualche altro cartone animato giapponese. In realtà è una macchina fotografica, è un'ulteriore macchina fotografica per le riprese video e c'è un microfono direzionale stereo per una migliore cattura dell'audio. Perché questo? Perché a volte, lo sappiamo tutti quanti, una fotografia può non bastare e a volte un video può non bastare. La sinergia fra due mezzi di comunicazione può essere assolutamente interessante e dare una completezza di racconto nelle proprie. La soluzione che ho adottato in realtà è molto semplice e molto banale. Ho deciso di sperimentare questo accrocchio, questo Transformer, perché la mia reflex, questa Nikon D7000, peraltro splendida, non consente la ripresa video. Ho provato questa P7000, invece, che ha una ripresa video assolutamente adatta a una trasmissione web, quindi in alta definizione, e c'era solamente il problema su come collegare i due apparecchi. Ovviamente il tutto viene raccordato attraverso la slitta del flash e l'alloggiamento per la vite sotto l'ulteriore apparecchio fotografico. Stessa cosa per il microfono direzionale stereo che viene alloggiato sulla slitta della P7000. Il fulcro di questo sistema è semplicemente questo piccolo raccordo. Io l'ho acquistato per pochi euro su ebay. Il secondo che provo, il primo aveva semplicemente questo perno di lega, non era neanche di acciaio, e questa rondella che si avvita sotto la macchina fotografica. In realtà dopo due o tre giorni di lavoro neanche top intenso si è piegato in due e l'ho dovuto sostituire. La soluzione più economica è sicuramente farselo fare da un fabbro, dandogli ovviamente la specifica della basetta, deve essere quadrata, deve poter essere alloggiata tranquillamente nella slitta, facendo attenzione alla lega che si utilizza che non faccia un contatto con i connettori del flash che trasmettono le informazioni alla macchina fotografica, che non produca dei falsi contatti e che faccia credere alla macchina fotografica che vi sia montato un flash sopra. Questo apparecchietto consente appunto l'introduzione della basetta sulla slitta porta-flescia, lo sgancio di questo perno snodato, l'avvitamento sotto la macchina fotografica, e la cosa che ritengo sia più interessante è che appunto questo perno, essendo snodato, consente un'inclinazione a scelta della macchina fotografica per le riprese video. Questo perché non tanto con delle focali corte come questo 50 mm, ma io spesso utilizzo in contesti di reportage un'ottica un po' più tendente al grand'angolo, il 24-70 o il 17-35. In queste situazioni, data anche la lunghezza dell'obiettivo, trovo molto interessante e stimolante inclinare leggermente la macchina fotografica verso l'obiettivo, dando alla punta del parasole la possibilità di entrare nell'inquadratura. Questo perché? Perché rende maggiormente la sensazione di soggettività del fotografo nella storia, e consente a chi guarda il video, normalmente sono video di backstage, non sono produzioni professionali, perché la qualità video si avvicina a un'eccellente qualità, ma sicuramente non arriva a livelli di professionalità. Quindi dicevo, inquadrando uno spicchio del parasole o dell'obiettivo, dove si riesca, si consente allo spettatore di immergersi completamente nella soggettiva, nel punto di vista del fotografo, e capire quello che stavi guardando in quel momento, che stavi scattando. Perché ho scelto il microfono esterno? Beh, sicuramente la soluzione è più idonea ad evitare delle intrusioni di audio non voluti. Normalmente, soprattutto, quando si è in un contesto di concitazione, magari, o dove il fotografo deve trovarsi a correre, un pochettino, si potrebbero verificare delle situazioni di, non so, di fiatone, di fiato corto, di rumori, magari, dalle persone retrostanti alla macchina fotografica. Con un microfono del genere si evitano, per quanto possibile, nei limiti dell'accettabile, quantomeno, rumori che provengono dal retro della macchina fotografica. Ovviamente, è importante ricordarsi di collegare lo spinotto a macchina fotografica, altrimenti, si verificherà quello che mi è successo una volta, riprese eccellenti, molto interessanti, ma il video è assolutamente privo di audio. Allora, come funziona e come lavoro con questo marketing genio? Innanzitutto, fisso leggermente il panel, e lo avvito sotto la P7000. Una volta fatto questo, si infila la macchina, si infila il perno nell'alloggiamento del flash della D7000, si stringe bene perché il rischio è che cada durante le riprese fotografica. Una volta acceso l'apparecchio di sopra, lo regolo in maniera tale da inclinarlo leggermente, si accende il microfono, e in questa maniera si avrà a disposizione sicuramente un apparecchio molto più pesante e solo all'apparenza più maneggevole, però che consente di effettuare fotografie in maniera tradizionale, e allo stesso tempo effettuare delle riprese video della soggettiva esatta del fotografo in quell'istante. Il vantaggio è evidente. Un altro utilizzo interessante che si può fare, a parte le classiche tecniche di ripresa video dal basso verso l'alto o in condizioni in cui il fotografo non riesce ad avere una visuale sopragerata. Si può, e questo è consentito grazie a questo snodo adattabile, ruotare la macchina fotografica mi è capitato per esempio di camminare con dei soggetti che non ritenevo volessero essere fotografati direttamente o comunque per i quali pensavo fosse più interessante una visuale laterale mentre camminavamo spalla a spalla e però per mantenere la spontaneità del racconto non volevo puntargli tutto il tempo la macchina fotografica e la telecamera sul volto ma camminavo al fianco. In questa maniera, camminando in questa, impugnando la macchina in questa direzione, in questa maniera, con la macchina fotografica per le riprese video nella direzione del soggetto alla propria sinistra e alla propria destra si riesce ad avere una ripresa video in soggettiva ma mantenendo la spontaneità del soggetto che potrebbe, come sappiamo, essere pregiudicata dal puntamento di una macchina fotografica. Dove erano? Dove andiamo? Dove siamo? Dove siamo? Pro e contro. I pro sono evidenti. Si può avere a basso costo un sistema interessante sicuramente divertente per raccontare le proprie storie a tutto campo. I contro è dato dal peso. non mi nascondo dicendo che è un apparecchio tutto sommato leggero. Non lo è. È pesante. Ovviamente dipende da tanti fattori dal batter grip, dalla ottica utilizzata. La macchina fotografica sopra e il microfono seppur in misura ridotta contribuiscono ad appesantire un po' il carico sul collo e sui polsi. Ci si abitua. Magari è meglio non utilizzarlo troppo altrimenti si potrebbe anche avere qualche problema di infiammazione ai polsi e alle spalle e al collo ma tutto sommato credo che sia assolutamente da provare perché è divertente.